Le stampanti serie PC sono dotate di un'interfaccia a icone intuitiva che fornisce all'utente un feedback dettagliato. È possibile configurare la stampante senza PC o applicazioni software, ma configurando il linguaggio di stampa. Mostreremo ora come effettuare questa operazione. Accendere la stampante. Durante la sequenza di avvio, le icone si accenderanno, per poi spegnersi una per volta. Quando almeno due icone sono ancora accese, premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione. La stampante continuerà lo spegnimento delle icone e completerà la sequenza di avvio. Procederà quindi alla calibrazione dei supporti. e alla stampa delle etichette di configurazione. Infine, stamperai il linguaggio di stampa corrente. Fingerprint è il linguaggio predefinito. Ogni tre secondi verrà stampata una nuova etichetta, con un linguaggio di stampa diverso. Lasciare il pulsante di alimentazione quando viene stampato il linguaggio desiderato. La stampante imposterà come predefinito il linguaggio prescelto e si accenderà la luce indicante il corretto funzionamento del dispositivo. Grazie. 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 Grazie.